Così? Sì! 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 Vai così! Ok Ok Sì! 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 No! Cos'è? Perché ci sono le palline? Oddio! Come ho perso! Come ho perso! Ho fatto un sacco di livelli a casa! No! Non ci credo! C'è ma ragazzi! Questo è impossibile! Sì! Sì! Vai! No! Non ci credo! 99 e 39! Che bella rana! Calmati! È una rana! Ma questo gioco esattamente! Non senso! Ce l'ha! Dalla faccia non sembra stifo! Vabbè! Ah! Ragà ragà ragà! Nel cappellico! Perché qua piove! E qua no! Vabbè! Non facciamoci domande! Cos'è? Cos'è? No! Non ci credo ragà! Siamo arrivati alla notte! Siamo arrivati alla notte! Sì! Sì! Devo andare! Devo andare a destra! Indominato! Che fortuna! Che cosa? Cosa fa? Un buco di due! Per? Ah! PPro redondo! Sì! Io distrugga tutto! Ah! Ah! Oh!! a caso vabbè andiamo avanti ma invece no dovevo farlo qui quindi ragazzi la mia soddisfazione più grande è diventata realtà devo concludere qui va bene ragazzi abbiamo completato stage 4 no 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 dai ce la puoi fare grazie grazie zio grazie dai non è troppo difficile so pure io lo so vai 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 guarda o l'ha fatto non ci credo si e io so già cosa fare casino madonna che casino abbiamo vinto ragazzi il mondo 2 è finito abbiamo sbloccato la piscina ragazzi la piscina volevo farvi vedere questo sarebbe più o meno sarebbe il TH9 ragazzi il TH9 si questa è la storia ragazzi direttamente c'è cosa non ci avrebbe possibile però io me lo chiedo sempre quando faccio gli attacchi io me lo chiedo ragazzi ma questi non sanno giocare ehi rana vuoi spuggire alle zanzare vai sì immagino non ci sono giochi perché non ci siete razzisti cosa sono ragazzi cosa sono sto giocando in piedi può cambiare posizione amore aspetta adesso non è come l'ho trollato di brutto ragazzi mi ha mancato di brutto intanto l'ho preso in pieno troppo piano ragazzi troppo piano però almeno se li prendo malissimo poi me li prende bene un blu aspetto che si sposta ragazzi perché se no si sposta è come un più bolle ma non è giusto ma tu alla matrix alla matrix alla matrix ragazzi alla matrix non ci sono bomboli non è giusto ma tu ragazzi stiamo stravincendo ci sono impegnato non ci capisco niente oddio ragazzi è fattibile manchino eh uuuu siiii ragazzi andavo a prendermi un'altra gore addio 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 è impossibile e mi ha preso in pieno si ma sto affetto non finì no non c'è un cuore hai un cuore si guardo guarda se perdo ma di quegli schiaffi guarda 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 si si e un'altra volta ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao